Adesso sto facendo un video, il primo video della vacanza Noi siamo così dopo dieci ore di viaggio, quant'è che è stato fatto in giro? Dodici In questo sconfinato aeroporto di Dubai Grazie Una parte di questa piazza che viene utilizzata anche come parcheggio ospita un mercato Grazie Grazie Siamo sulla nostra barchetta che andiamo a Robben Island Felice? Ce l'abbiamo fatta, il tempo oggi è caldo Adesso andiamo a vomitare il mal di mare della coesa Noo Dopo che era stato liberato E lui dopo le interviste si è preso su in silenzio, è andato lì Ha messo un sasso lì e dopo ogni altro prisioniero politico che è tornato a visitare la cava Metteva un sassolino sulla pila E adesso è diventato un monumento Andiamo alla matilda che vuole il video alla giapponese Grazie 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 No Grazie 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 ciao piccolo ciao piccolo video che stiamo andando a vedere Cape Point e dopo andiamo a vedere il capo di Buonasperanza che non è nel primo punto più a sud dell'Africa ma neanche il secondo quindi è un complotto del sistema secoli e secoli di navigazione sono stati ingannati da questa cosa vi la tua teoria il primo capo che si vede quando si arriva dall'Europa o dall'America e quindi qui di là non so se mi hai convinto non so se mi hai convinto qui c'è una balena che fa tantissimo rumore finita 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 i baboons dove? la sulla punta la matilde più a sud dell'africa non è vero magari ce n'è una la a capo a ghilas è sicuramente il capo di buona speranza che è la è più enorme di qua questo è un video eh stai balla stai ballando allora la fede si è preoccupata dal nostro aeroplanino perché è una giornata windy lì vediamo se sarà questo no 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 Franci è preoccupata andiamo sulla strada ci andiamo in pullman in coach ma ti ho detto che mettono le ali queste e andiamo eccolo il vostro planilo Sono preoccupata perché sono sotto alla unada. Primo safari, tempo del cavolo. Come si girano? 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 Grazie a tutti. 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 Zambia. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.